A Gigi Ray Super qui il portiere Puoi dirlo forte Pier Sono vicini al traguardo, è un momento fondamentale questo Ottimo riflesso del portiere Parata che vale quanto un gol, letteralmente Tutta la pressione è su di lui, se sbaglia è finita Non sbaglia Va a sistemare il pallone, ovviamente è un momento chiave Grande pressione su di lui E c'è il gol E con questa parata si conclude l'incontro, hanno vinto